All'inizio c'era un po' di emozione, ma giocando magari è passata, è stata un'emozione unica a giocare davanti alla mia famiglia, ai miei amici, però adesso guardiamo avanti. Che sensazioni ti ha dato il fatto di giocare questa partita? Come ti hai sentito quando sei entrato in campo? Che cosa ti è passata davanti? È stato bello vedere lo stadio Granata, la maglia addosso Granata, tutto molto bello, è stata un'emozione unica. Sì, magari all'inizio c'era un po' di emozione, però poi giocando, ripeto, è passata. Ed è normale, penso che ci sia. Avevo giocato già a Trapani da avversario, però giocare con la maglia Granata è un'altra cosa. Però stasera è andata bene, adesso guardiamo a Siracusa che è un'altra partita tosta. E' una bella partita, sarà tosta, loro vengono da una vittoria. Sono stato due anni lì a Siracusa, però adesso sono avversario, quindi devo giocare col Trapani e fare bene col Trapani.